La sedia Eh? Mi deve dare la sedia che non va bene Eh, tagliamolo, no, tagliamolo più Più in quarta è possibile, no? Più vicino possibile Ma lo che fanno, l'innesto d'alta quota stavolta? Sì Eh, ragazzi Dendo, dentro alla testa Il mondo segretario mi dico che hanno studiato il Cesare Ci sposto la sedia, adesso Quindi qua si ripete, ma... Lo stesso si, sì Allemini le nervature Sì Allora, ho questi, no, no, non quello Ho questi due Ho questi due Tegli qui Così Se iniziati Oggi Pagliamolo Per Sì Oggi Pagliamolo Com l'assistente Che Sì Pagliamolo La Pagliamolo Espirazione Ma questo è questo rasingle? Non è mai più strano o no? Ma... Si chiesto qui, poi taglio gli altri rami, diciamo del tipo, lascio solo questo ramo. Ma che se vanno tagliate tutti? Li taglierò, se si chiesti pieno li taglio. Grazie a tutti. Giusto, ho il potatoglio, ecco. Buongiorno a tutti. Mi ha cambiato il tempo. Andai a guardare nella telecamera che ha cambiato il colore o qualcosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello che ho fatto io, guarda, non l'ha fatto nessuno. Anzi, ora c'è passato quella cosa lì, tanto. Però, dire la verità, quando mettevi in internet, la gente quando vai in internet ci rimane sbalordito. E tu sei commentatore certificato che va cercando. Oh! Sai cosa faccio? Mi hanno chiesto a me che ruolo c'è. Un creatino. E io ho fatto la fotografia di quello lì, commentatore certificato. Volevano morire. Si hanno cancellato tutto. Dopodiché io taglierò quelli e farò crescere questi due. E io ho fatto lì. E io ho fatto lì. E io ho fatto lì. e tu hai fatto. Pronto a chi è la pianta piccola lavare la nesta. Si. Quella lì. Quella la facciamo come quella. a me mi sembra arrenato un pozzetto quello quando c'è il ragazzo di campagna questo è un po' curioso, vogliamo ora, vi siete chiusi dentro non lo so, hai capito? vi siete chiusi dentro, no calabra non c'è solo non c'è veramente c'erano film, vi siete chiusi dentro, invece no, l'avamo chiuso fuori chi lo firma, un ragazzo di campagna ok, qua a posto, andiamo fuori aspettate, dunque questi sono, vabbè, niente, stavo pensando bene Grazie.